Facciamo un gol contro il Cancio, con un sms al 45510 sosteniamo tutti insieme i ricreatori Ayrich. Nicola Sass, un punto per l'Atalanta ma sicuramente tu sei più contento anche per il fatto di aver finalmente fatto il tuo esordio con la maglia nera azzurra. Sì, io sono molto contento per il mio debutto, le prime minuti che ho avuto in questa maglia ma io non sono contento con il risultato. Questo 1-1 che lascia un po' di amaro in bocca perché l'Atalanta era in vantaggio e poi ha subito questo gol del pareggio. Sì, è una gara difficile per noi, abbiamo fatto un bel primo tempo ma dopo sì, anche un avversario che è molto aggressivo e molto compatto e loro hanno fatto una partita bene, benissimo, sì. Beh, l'aspettavate così la Spal, una squadra comunque tosta, difficile? Sì, loro sono molto fisici, molto aggressivi anche, loro fanno anche con qualità e noi abbiamo avuto tante occasioni ma non abbiamo fatto il gol, il secondo gol. Peccato appunto non aver chiuso la partita quando si è creata l'opportunità. Sì, abbiamo tanta occasione ma per vincere penso anche in questa liga dobbiamo fare più di un gol e questo non ne abbiamo fatto oggi. Come ti ricorderai questo tuo esordio con la maglia nera azzurra? È un giorno molto... sono contento per questo debutto, anche i tifosi sono molto appassionanti ovviamente sì, è un giorno perfetto per me.